Ciao a tutti, è l'ultima clip? Sì, questa è l'ultima clip, ma la scuola di teatro Città di Piacenza non finisce qua. Questo è un arrivederci al prossimo anno. Vi aspettiamo al teatro Trieste 34 con le nuove lezioni. Ci saranno importanti novità, quindi seguiteci. Sperando che il coronavirus ce lo permetta, ci incontreremo tutti e inizieremo un bellissimo percorso che ci porterà a conoscere noi stessi il teatro, ci porterà a conoscere l'addizione, a usare la voce, ad aver meno paura in pubblico. Insomma, tante novità che vi aspettano. Io vi saluto e vi lascio ad alcuni dei nostri allievi che vi salutano. Non è un addio, è un arrivederci. Grazie per averci seguito in questi mesi. Io sono entrata a far parte della scuola teatro Città di Piacenza quando le lezioni erano già iniziate più o meno a fine ottobre, inizio novembre e mi sono trovata subito a far parte di un gruppo meraviglioso. Sono la più piccola, la più giovane perché ho solo 18 anni e ho collaborato con persone comunque più grandi di me ma che mi hanno sempre rispettata e mi hanno subito accolta nel migliore dei modi. Sono stata molto contenta dell'esperienza che ho fatto e ringrazio tutti i miei compagni e ringrazio tantissimo Corrado per l'opportunità che mi ha dato e che ha dato a tutti noi. ho scoperto nuove parti di me che non conoscevo grazie a questo corso e ho scoperto di non essere così timida e che tutti noi abbiamo all'interno una parte che deve uscire e penso che questo corso mi abbia aiutato molto a scoprire questa parte di me. Ho conosciuto persone speciali che sono sempre state davvero molto gentili con me e disponibili e mi dispiace non aver condiviso con voi queste ultime le lezioni fisicamente ma sono sicura che ci sarà occasione presto di poterci rivedere e abbracciare tutti e niente vi ringrazio tutti perché è stata davvero un'esperienza meravigliosa e spero di poterla rifare di nuovo. Voglio salutare la scuola di teatro di Piacenza, i suoi insegnanti e i miei colleghi citando una poesia di Giussi Caffari Panico Come Ulisse nel canto delle sirene, incatenata al mio balcone, mi offro alle carezze tentatrici del sole i miei occhi si inverdono di prato e dei fiori del giardino accanto e il solito passero dei poeti non si ferma sui davanzali di ferro come il mio ma si posa sull'albero di fronte e canticchia Buona estate a tutti da Anna Maria Ciao a tutti Ognuno di noi ha interessi, desideri, perché no? Sogni Credo che nessuno da bambino non abbia mai vestito i panni del suo eroe preferito magari guardandosi allo specchio per trovare quelle espressioni che ci facevano somigliare ancora di più al nostro personaggio Certo, era solo un gioco ma per chi come me è stato contagiato dalla sindrome di Peter Pan il desiderio di farlo ancora è rimasto intatto Alla scuola di teatro Città di Piacenza, presso il Teatro Trieste 34 non ho perso la mia mitica R Piacentina ma grazie ad insegnanti serie e preparati e ad un gruppo tanto variegato quanto unito e desideroso di imparare ho avuto l'opportunità di intraprendere un percorso utile divertente e veramente molto emozionante a mio parere un'esperienza unica che mi sento di consigliare a tutti quanti grazie e a presto Penso che la vita sia un grande palcoscenico dove ognuno di noi recita la storia che ha scelto più o meno consapevolmente e come su un palcoscenico impersoniamo dei ruoli indossiamo delle maschere frequentare la scuola di teatro Città di Piacenza mi ha permesso di imparare come osservare questi ruoli, queste maschere e come toglierle Attraverso l'uso della voce, l'uso del respiro attraverso l'espressione corporea ho imparato a riconoscere le mie emozioni a guardare me stessa con degli occhi nuovi, diversi e ho scoperto una nuova me grazie grazie a tutti gli insegnanti che mi hanno trasmesso le loro conoscenze la loro esperienza e grazie a tutti i compagni di viaggio che hanno percorso con me questo pezzo di cammino della mia vita grazie a tutti di cuore Ciao a tutti c'è sempre un buon motivo per iscriversi ad un laboratorio teatrale per vincere le paure la timidezza per conoscere nuove persone che hanno voglia di fare e di ascoltare per parlare e vivere nuove emozioni se poi come nel mio caso vi pagano per girare questo video allora vi dico iscrivetevi e partecipate al laboratorio della scuola di teatro a città di Piacenza no a parte gli scherzi iscrivetevi e partecipate alla scuola di teatro a città di Piacenza sarà un po' come aprire per la prima volta questa finestra e vedere cosa c'è fuori a teatro a città di Piacenza 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 a teatro a città di Piacenza